Ho già espresso il mio parere e a costo di essere picchiato dall'anestesista devo dire non c'è niente da fare, devo esprimere il mio parere, non posso fare diversamente e il mio è un parere leggermente differente, non per questo migliore. Io riterrei che l'esistenza di un tesserino, e stavamo facendo il caso limite in cui questo tesserino può avere un valore notevole, e cioè il tesserino appena compilato, cioè compilato da un tempo ragionevolmente breve, e portato con sé in evidenza dal soggetto, e quindi che manifesti come giustamente riferiva il dottor Micheli, non soltanto una chiara determinazione recente nell'espressione di un certo parere e di una certa prognosi, ma anche una volontà di far sì che tutti sappiano oggi, giorno per giorno, non è dimenticato nel portafoglio, cioè portato con sé. Ecco, io credo che in questo caso quel presunto consenso alla terapia congrua, in onore, dicevo prima, all'istinto di conservazione, si inverte. E quindi si deve presumere che quella volontà sia rimasta. Se io non rinvengo alcun elemento, vuoi per la datazione del tesserino, vuoi per la manifestazione, altrimenti in un certo qual modo di un'inversione di tendenza della volontà, se io non rinvengo nessun elemento, sono tenuto, credo, come medico a non fare alcunché, cioè ad astenermi ritenendo la volontà precisa in quel senso. È pericoloso far troppo riferimento alla scriminante putativa. Se si fa riferimento alla scriminante putativa si rischia di dire al medico, beh comunque se sei incerto vai, fai la trasfusione, che tanto al massimo ti dicono che era stato di necessità. È pericoloso. Direi tra l'altro che la scriminante putativa possa anche operare, anche se impropriamente, relativamente all'articolo 50, il consenso, sbaglio che è il 50 il consenso? No? Vado alla fonte del diritto? rispetto all'altra scriminante, il consenso dell'avente diritto, che in questo caso non è un consenso ma è un dissenso. Ma se io sono legittimamente convinto che chi di dovere, cioè l'avente diritto, ha manifestato in maniera precisa e chiara e ferma e sufficientemente attuale la propria volontà di non ricevere una prestazione che pure gli potrebbe salvare la vita e io devo abstenermi.